5 stelle vedrai, ci vediamo tutti insieme al Polbar una domanda da qui senza il microfono che mi hai cortesemente elargito una domanda velocissima ti vorrei chiedere se devi rinnovare in qualche modo il tuo format abituale che va benissimo qual è la priorità? che cosa cambieresti di una formula collaudata che ha fatto il tuo successo? ma dello spettacolo? sì sì, naturalmente dello spettacolo non lo so, in questo momento mi cogli veramente così comunque quello che a me piace è fare lo spettacolo con la gente quindi siccome la gente cambia sempre la formula va da sé che si rinnova automaticamente quindi credo che sia questo forse l'elemento che terrei perché è quello che poi mi permette di cambiare e un'ultima domanda, quel signore al tuo fianco è Tex Wheeler e perché ha gli occhiali? questo dovrebbe rispondere lui